Siracusa, emergenza, acqua, perdita multipla su una condotta in città, intervento complesso, ripristino domani mattina. È più difficoltoso del previsto l'intervento in relazione alla perdita multipla individuata su una condotta che ha determinato una riduzione della pressione dell'acqua nelle zone di Belvedere, 3.000, Viale Pipoli, Pizzuta, Via Forlanini, Viale Zecchino, Viale Tica e Zona Limitrofe. La situazione è piuttosto complessa, comunica Siam e Sipia. L'ultima perdita è molto consistente e ormai il serbatoio è quasi a zero. Il ripristino regolare del servizio pertanto è previsto con tutta probabilità per domani mattina. Presto.